Abbiamo raggiunto un obiettivo importante in un campionato molto difficile e quindi sono soddisfatto perché dopo le ultime stagioni molto tribolate quest'anno siamo sempre stati in una situazione abbastanza tranquilla ma comunque la classifica era sempre corta e quindi ci bisognava sempre stare molto concentrati. Adesso abbiamo l'ultima partita da affrontare con grande entusiasmo perché abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo e andiamo a affrontare l'ultima partita per provare a raggiungere un qualcosa in più. Questa salvezza penso che sia grande merito del mister perché il mister ci ha dato tantissimo è arrivato in una situazione particolare e piano piano si è fatto conoscere ha cercato di metterci in campo sempre nel migliore dei modi e ci ha dato una grossa mano penso che la maggior parte del merito di quest'anno va dal mister. Senza Ivan mi sono sentito in dovere di avere più responsabilità e ho cercato di calarmi di più nella parte perché comunque gli anni scorsi sono sempre stato un giocatore importante ma non ero mai stato il capitano e quindi quest'anno ho cercato di assumermi molto più responsabilità e di metterci sempre la faccia il più possibile. Quindi spero di essermela cavata e sono contento perché comunque ho rappresentato una squadra di uomini importanti e quindi mi fa onore ecco. Beh forse il gol di ventola ecco, quello è stato il momento più importante, questo qui, questo con la vispesa che ha sancito la salvezza dopo. Era probabilmente pareggiare quella partita lì, voleva significare stare ancora con l'acqua alla gola invece quel gol lì ci ha dato la spinta decisiva per la salvezza quindi quello è stato il momento più, secondo me, più bello. Poi dopo ce ne sono stati tanti, abbiamo fatto, secondo me, delle belle partite però ecco, quello è il momento più bello. Beh desiderare sì è normale. Io non so se rimarrò oppure no, sono sincero, ancora non ho parlato e sono molto concentrato ancora sul finale di campionato però sono anche consapevole del fatto che se questa squadra non viene smantellata e il mister viene confermato c'è la possibilità di ripartire con grande entusiasmo e con un gruppo già collaudato. Poi dopo i campionati non è che uno può prevedere il futuro però ecco, una base importante secondo me questa squadra ce l'ha è normale che uno è ambizioso e cerca di... Io penso che dopo gli ultimi anni brutti o comunque di salvezze miracolose quest'anno ci siamo salvati con molta più serenità e quindi penso che giustamente questa squadra sta facendo degli step volta per volta e credo che e mi auguro che lo step successivo a una salvezza tranquilla sia qualcosa di più ecco.